Il coro della Pieve di Sintia, dato dal maestro Marrenti, ce ne illustrerà in la consistenza la signora Giovanna Fiorina Fiorina. L'altro canto, di tradizione alpina, ma non di stampa militare, eseguiremo il signore delle cibi, di Betty de Marzi, che lo ha commosto nel 1958 in occasione della scomparsa di un suo amico durante un'escursione in montagna. L'altro canto, alto e glorioso Dio, con la musica composta da un signor Marco Fiorina. Dio del cielo, signore delle cibi, L'altro canto, alto e glorioso Dio, con la musica composta di un suo amico L'altro canto, alto e glorioso Dio, con la musica composta di un suo amico L'altro canto, alto e glorioso Dio, con la musica composta di un suo amico O Vittor Pianco, sovvice mantello, il nostro amico, nostro fratello, sulle paradiso, sulle paradiso. Lascia guardare, el fue montagne. Grazie. 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 Grazie.